Musica Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi, oramai le notizie arrivano a stormi Abbiamo davvero tantissima roba di cui parlare oggi Parleremo di tutto quello che è successo ieri nella mappa Quindi l'arrivo della nuova location, quella mini location in alto a sinistra Ma parleremo anche dell'arrivo di Silver Surfer E vedremo un sacco di cose, il piano di Tony Stark Tutto quello che verrà modificato ad esempio all'autorità Insomma ragazzi, tanta tanta roba Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano Nello shop con il mio codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali E soprattutto Di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi E non può che essere Galactus E sì perché noi stiamo in realtà vedendo tutti i supereroi Poi livellando nel pass cominciamo a sbloccarne ben più di uno Quindi oltre a Thor arriva poi anche la ragazza che poi diventa Shulk, Groot e così via Ma Galactus, attenzione perché avrà un ruolo fondamentale Nella storyline di questa season E volevo farvi vedere una cosa davvero curiosa Questa immagine, questa immagine ve l'avevo già proposta qualche giorno fa È datata 27 agosto E come vedete la stellina più luminosa È proprio Galactus che arriva Verso la mappa Ma se andiamo a guardare esattamente il giorno dopo Il 28 agosto Guardate quanto si è avvicinata Questo vuol dire che molto probabilmente Non servirà così tanto tempo Prima che vedremo in cielo Chissà che cosa Io non ne ho assolutamente idea Quindi occhi puntati al cielo Perché giorno dopo giorno Lui si avvicina E andiamo avanti a parlare del prossimo Argomento di oggi E volevo dirvi che ci sono delle modifiche Per quelli che utilizzano iOS Come sapete purtroppo Fortnite non avrà più update Per quanto riguarda i dispositivi iOS Ma sono riusciti quelli di Epic Games ad averla vinta Per quanto riguarda invece lo sviluppo della Real Engine Quindi il motore grafico Che permette di far girare la stragrande maggioranza Dei videogiochi di casa Epic Games Quello non subirà invece nessun blocco Quindi non vi preoccupate Se giocate a Battle Breakers Se giocate a Sea of Thieves Se giocate a Borderlands E così via Non ci saranno problemi Potrete continuare a farlo E tanta roba Almeno quello ragazzi Sono contento che non sia stato bloccato E andiamo avanti a parlare del prossimo Argomento di oggi Perché questa è una cosa davvero interessante Ed è una cosa che merita un secondo Un po' di attenzione Ieri mattina Ve l'avevo già anticipato nel video Dell'altro ieri O di ieri mattina Non me lo ricordo È arrivata la prima Delle 4 nuove mini location Che si stanno Come dire Materializzando in mappa È una cosa molto curiosa Intanto ve la voglio far vedere in un video Mentre ci parlo sotto Così anche se l'avete sicuramente già vista È una roba molto curiosa Perché quel camion che c'è lì al centro È marcato Stark Industries E le Stark Industries ragazzi Ovviamente sono quelle di Tony Stark Quindi di Iron Man Che cosa significa questa location che è apparsa Significa ragazzi una cosa davvero incredibile Anche perché insieme alla location Sono apparsi anche due rift Questo vorrebbe dire che molto probabilmente Tony sta cercando in qualche modo Di ricreare E forse ci è riuscito I rift in mappa Tra l'altro abbiamo questa bellissima immagine Presente in game Che si chiama il piano di Tony Tony's plane Chiamato dai leakers Di tutto il mondo E come vedete Comprende anche Questi rift beacon Quelli che praticamente Abbiamo già visto essere Disposti a cerchio in mappa Che tra l'altro Si sono attivati Come vedete in questo schizzo In questo disegno Si vede chiaramente che I rift beacon Hanno una funzione fondamentale Che rilasciano dell'energia Che molto probabilmente Serve ad aprire uno spazio temporale E quindi l'arrivo di porzioni di mappa Che non si capisce bene Da dove arrivino Voglio però farvi scendere Una lacrimuccia ragazzi Mentre intanto vi faccio vedere Una bellissima immagine Ad alta definizione Di uno di questi rift beacon Voglio farvi scendere una lacrimuccia Perché chi non avesse mai goduto In season 4 L'apparizione degli oggetti dal rift Vabbè dai Merita un like solo questo spezzone di video Va là Qua eravamo addirittura A putrido pantano E tutti aspettavamo Alle 10 e mezza 11 di sera L'apparizione di uno degli oggetti misteriosi In questo caso fu Lo scheletro Che poi Creò Diciamo Tutto il Tutto come si dice Il deserto Che ci fu poi Nella mappa Ma apparve anche La carovana L'ancora E tante altre cose Insomma chi se lo ricorda Non avrà assolutamente dubbi A non lasciare un like Quindi tanta roba ragazzi Perché Tony potrebbe Voler creare Tanti rift In giro per la mappa E queste sono le altre location Di cui vi parlavo Anche Nella Nel video news precedente Il security track E quello che è apparso Ci manca Il collector's museum Il doghouse E il panther Monument Abbiamo però già Le posizioni Nelle quali appariranno Queste nuove Mini location E come vedete La doghouse Appare sotto Sabbie sudate E a destra Di siepi d'agrifoglio Il panther monument Appare proprio Alla fine Del ponte Quello della diga Mentre il collector's museum Sembra che appaia Esternamente Meglio sul bordo Della mappa In basso A destra Staremo a vedere Come sono E chissà A che cosa serviranno Se magari sono solo Degli esperimenti E andiamo avanti A parlare del prossimo Argomento di oggi Perché sono state trovate Delle cose incredibili Ancora relative A Tony Stark E ad Iron Man Non a caso ragazzi E' proprio la skin Del livello 100 Di questo pass battaglia L'immagine che vi sto facendo vedere In questo momento Rappresenta Una specie Di drop Super speciale Seems like In upcoming Iron Man Poi Quindi attenzione Perché qua si dice Che l'autorità Presto Verrà trasformata Nel luogo di interesse Di Iron Man We will get New Iron Man chest Otterremo Un chest Di Iron Man Ci sono delle Notizie molto importanti Oltre a quella Che vi ho appena Fatto vedere Intanto vi ricordo Che nel trailer Si vede proprio Che Iron Man Sbara fuori Da quella Che sembra essere Proprio come sfondo Un'autorità Modificata E ci sono Un sacco Di indizi Vi sto traduggendo Direttamente Che l'autorità Cambierà Nel palazzo Di Tony Stark Il trailer Mostra appunto La location E adesso Abbiamo trovato Il chest Quindi all'80% Questa cosa Accadrà Però abbiamo anche Questa bellissima immagine Che ci dice Che ogni volta Che apriremo Un forziere Sbloccheremo Lentamente Una nuova Punch Cards Quindi una nuova Scheda punti Dedicata esclusivamente Al forziere Di Tony Stark Non sappiamo bene Quali siano I power up Se ce ne saranno O che loot Avrà al suo interno Ma il fatto Di avere queste notizie È già tanta Tanta roba Andiamo avanti A parlare del prossimo Argomento di oggi Perché attenzione Alla pagina twitter Di marvel Perché ragazzi Sta spoilerando Notevolmente Un sacco di cose Che Si c'era Sono in hype Sono qualche croco Tipo bacon Nella padella Ragazzi Queste due immagini Sono veramente bellissime Tempesta E la renegade raider Ma dall'altra parte Ve la faccio vedere Un po' più ad alta definizione From the official marvel post Dal post ufficiale di marvel Attenzione Tenete gli occhi aperti Su tutto quello Che sta succedendo Tra epic games E marvel E ragazzi Godetevi questa immagine Ad alta definizione Perché Oltre ad alcuni Eroi Che già abbiamo visto Come vedete C'è addirittura La Oh diamine Come si chiama Quello con la testa Infuocata Oh porcaccia Porcaccia Si chiama Si chiama Tizio con la testa Infuocata Che guida la moto E fa paura E bellissimo Vigliaca Mi sono Mi perdo il nome Dai scrivetemelo Nei commenti Che lo sapete voi Tanto me lo ricordo Appena finisco il video Abbiamo anche venom E abbiamo anche alcune skin Di fortnite Quindi tanta tanta roba Per quello che sta per accadere Prima però Di salutarvi Vado avanti qua Non c'ho tempo Ragazzi La nuova skin Il nuovo bundle Di silver surfer Sta per arrivare Ieri in serata È stata decriptata Questa immagine Che lascia ben sperare Arrivano anche delle voci Che potrebbe essere Arrivato oggi Questo video è registrato Prima del cambio shop O alla peggio Entro martedì prossimo Quindi ragazzi Il bundle Arriva Tanta tanta roba Ma io per oggi Mi devo fermare qua Vi ringrazio tantissimo Per avere guardato questo video Mi raccomando Non vi dimenticate Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi Ci vediamo In live adesso Su twitch Ghost Rider Ciao Ciao